Per celebrare l'anno internazionale della chimica, nel 2011 sono stati organizzati in tutta Italia incontri e dibattiti. Presso la Scuola Normale Superiore di Pisa si è tenuta l'inaugurazione scientifica dell'evento, una giornata di conferenze a cui è intervenuto tra gli altri il professor Luigi Nicolais, docente di tecnologia dei polimeri all'Università Federico II di Napoli e adesso presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Molte delle cose che noi viviamo e che noi facciamo partono principalmente dalla natura e la natura ha dato degli input al ricercatore perché ha permesso al ricercatore di cominciare a pensare in modo diverso di come costruire un oggetto. La natura non ha costruito strutture, ha costruito materiali e uno dei punti centrali dei cambiamenti negli ultimi anni è che la progettazione si è spostata dal momento in cui il materiale si comprava e quindi si doveva realizzare un oggetto al momento precedente in cui si doveva realizzare il materiale per quell'applicazione specifica. Secondo me questo è il punto centrale del cambiamento negli ultimi 40 anni ed il ruolo della chimica, dell'ingegnere chimico è diventato sempre più importante man mano che si scendeva di scala, man mano che si passava da materiali di dimensioni dell'ordine del centimetro a materiali di dimensioni del nano. Quindi questo passaggio è un passaggio che ha caratterizzato tutto il secolo scorso. La natura opera secondo una selezione naturale che in qualche modo attraverso un approccio trial and error cerca di sviluppare continuamente materiali migliori e mi fermerei sulla parola materiali perché la natura non costruisce la struttura ma modifica il materiale, modificandone le componenti, non necessariamente chimicamente ma anche solamente in funzione del volume percentuale di uno rispetto all'altro. L'osso per esempio che è uno degli elementi strutturali del nostro corpo più complesso da un punto di vista proprio ingegneristico è formato semplicemente da due materiali, delle fibre di collagene e dell'apatite, quindi un organico e un inorganico messo insieme, che permettono a quest'osso di riuscire ad evolversi nella vita, riuscendo da piccoli ad avere una bassa rigidità ma un'elevata capacità di toughness, cioè di ricevere carichi improvvisi, quindi di assorbire energia, sempre più cambiando le percentuali relative di apatite rispetto al collagene, di passare a un materiale che è sempre più rigido ma sempre meno tenace, quindi più fragile e questo determina un cambiamento continuo senza che cambino gli elementi, ma cambiano le percentuali dell'uno rispetto all'altro. Ovviamente il sistema è molto più complesso perché è un sistema in cui il rinforzo viene fatto attraverso un sistema che oggi chiameremo filament winding, un avvolgimento filamentare delle fibre di collagene intorno a un'asse centrale che è l'asse di supporto dell'osso, analogamente vale per il dente. Il dente non è montato sulla mandibola ma è montato attraverso un sistema di shock absorber, un sistema di microfibrille che sono quelle che vediamo qui, che sono capaci di assorbire urti e quindi evitano il passaggio diretto dell'urto dal dente alla mandibola al resto dell'osso, anche questo cambia nella vita, durante la vita perdiamo la capacità elastica di queste nostre fibrille e il sistema diventa molto più fragile e quindi capace di resistere a carichi maggiori, ma sempre meno capaci di essere tenaci. Lo stesso vale per il legamento. Il legamento è un sistema composito anisotropo a tutte le scale di dimensioni, qui stiamo nell'ordine del nano, qui stiamo nell'ordine del micro e in tutte le scale è sempre il fibrillare, tutte fibre, perché deve resistere a un solo carico, un carico oassiale e quindi è costruito in questo modo per evitare delle materie in più che non servirebbero, materie che potrebbero resistere a un carico trasversale che non c'è. Ma la cosa più importante del modo di progettare un legamento è che questo legamento non ha tutte le fibre orientate, ma ha le fibre leggermente ondulate, come vedete in questa parte, che permette al legamento di funzionare come un ammortizzatore di un'automobile, reagisce elasticamente, ma contemporaneamente assorbe energia durante la prima fase dell'orientazione delle fibrille nella massa viscosa del sistema che le mette insieme. Quindi la progettazione è una progettazione a vari livelli, ma sempre legata alla funzionalità dell'oggetto. I compositi degli ultimi cento anni sono cambiati moltissimo e sono cambiati principalmente nella dimensione, all'inizio del secolo scorso, intorno al 1920, i primi anni del 1900, è nata un'idea che probabilmente nella costruzione il cemento da solo non riuscisse a risolvere tutti i problemi e bisognava rinforzarlo perché il cemento non ha resistenze trasversali, perché non resiste a ondulazione e quindi pensare al rinforzo attraverso delle fibre di grandi dimensioni, in questo caso del centimetro. Intorno, vedremo poi fra poco, intorno agli anni 70, diciamo, ma la vera applicazione intorno agli 80, si è pensato di scendere di dimensioni e di passare dal tondino di ferro a delle fibre di carbone passando a una resina rinforzata con una dimensione della fibra di 10 micron. Questi sono i compositi che oggi vediamo molto nell'aeronautica, anche nell'automobilistico, in tutto il settore dei trasporti e che stanno cominciando ad avere un grande interesse anche per il settore civile. Dopodiché si è cominciato ad avviare tutto un processo di ricerca cambiando scala. Perché non pensiamo di intervenire a dimensione di nano e quindi cercare di modificare il comportamento di un materiale, non necessariamente sintetizzando un altro materiale, ma modificandolo a livello nanometrico e quindi inducendo delle proprietà che il materiale di per sé non aveva, ma che potrebbe avere se avessi avuto dentro il materiale a dimensione nanometrica certe altre tipologie di oggetti o di materiali. I compositi sono importanti perché se guardate solo la parte in giallo vedete immediatamente che il modulo specifico, una resistenza specifica di un composito in carbonio è circa 3 volte quello di un acciaio e circa 4 volte come resistenza specifica. Per un aeroplano, per un'automobile, per un sistema che si muove, significa che si porta a passeggio in giro un oggetto che pesa 4 volte in meno a parità di resistenza o di rigidezza. Ed è questa la ragione vera dell'interesse verso questi nuovi materiali. Nell'industria aeronautica c'è stato un cambiamento che non è stato molto rapido come potrebbe sembrare, ma è durato circa, consideriamo che il vero cambiamento è nato quando è nato, hanno cominciato a utilizzare la grafite, cosa che è successo intorno agli anni 70. Il settore aeronautico è nato con i compositi, i primi aerei erano in legno, che è un composito naturale, quindi in legno sono stati costruiti i primi aeroplani che hanno volato all'inizio del secolo, dopodiché si è immaginato che il metallo potesse risolvere tutto e si è passato al metallo e quindi per molti anni il metallo ha rappresentato, per circa 50 anni, ha rappresentato il vero materiale da costruzione del composito. E questo devo dire che è stata una grande limitazione nell'uso del composito, perché la mentalità dell'azienda che lavorava il metallo era diversa dalla mentalità dell'azienda che doveva lavorare il composito. Si passa da una industria metalmeccanica a un'industria chimica, si passa da un'industria che era abituata principalmente a modificare fisicamente una lamina, un oggetto, un metallo, a un'industria che invece attraverso una tecnologia che brevemente vi racconterò deve mettere su un reattore chimico e utilizzando questo reattore chimico deve riuscire a ottenere un materiale performante che dia fiducia al progettista. Questa è stata la vera ragione di questo lungo ritardo nell'uso dei compositi. I militari sono andati più veloci, perché non c'era problema di costo, non c'era un grande problema di sicurezza e quindi il militare di fronte a una possibilità di un oggetto più performante ha usato il composito e la distanza tra militare e civile è stata quasi 20 anni. È stato quel periodo di tempo che è stato necessario affinché i progettisti cominciassero ad avere fiducia nei compositi e tutto è cambiato in questo modo quando il progettista metallico e il progettista composito erano due persone diverse, perché c'era una mentalità diversa, una mentalità che riusciva a capire meglio il materiale e quindi riusciva a progettare in sicurezza un materiale molto più interessato. Ci sono stati dei tentativi di cambiare fibre durante questi anni con la ceramica, la metallica, ma è durata solamente circa 10 anni poi, è scomparsa perché non aveva quelle prestazioni che potevano essere interessanti. Quando si è passato ai compositi i problemi erano infiniti. C'era un problema di processo. In aeronautica la parola chemoreologia era un qualcosa totalmente sconosciuta. Nessuno immaginava che mettendo insieme varie lamine in cui c'era una resina che inizialmente era un termoplastico e che poi cominciava a reagire per diventare un termo indurente ci fosse un problema di eologia. D'altronde loro si rendevano conto che mettendo uno sull'altro le varie lamine avevano dei grandi problemi di aria che veniva inglobata internamente. Quindi il lavoro di eliminazione dell'aria diventava un lavoro legato al chimismo e alla velocità della crescita di temperatura durante il processo di preparazione degli oggetti. Poi c'erano dei problemi di invecchiamento. La corrosione che avevamo con i metalli era scomparsa, ma era nata un'altra forma di corrosione, una forma di corrosione che era dovuta all'acqua che veniva assorbita da questi materiali. All'inizio durante la guerra del Vietnam c'erano dei casi estremi, alcuni pezzi di aereo esposti al sole in Vietnam vedevano le ali che si abbassavano, perché c'era un problema di plasticizzazione, un problema di assorbimento di acqua, un raggiungimento di temperatura di transizione vetrosa propria dell'oggetto che era uguale alla temperatura esterna dell'ambiente e questo per una mentalità meccanica sembrava impossibile, perché una volta fatto l'oggetto, l'oggetto era quello. Poi il problema del design, la progettazione, la progettazione con i metalli era una progettazione basata sulla condizione che non c'erano difetti, cioè un medallo viene progettato a vita infinita, quindi senza difetti, appena c'è un difetto comincia l'effetto fatica, comincia la possibilità di danno irreversibile, col composito di natura sua c'ha il difetto, perché c'ha una seconda fase, allora si è dovuto mettere in piedi un nuovo modo di progettare che è basato su quella tecnica che si chiama di damage tolerance, di tolleranza del danno, assumendo cioè che nel materiale c'è un danno, ma questo danno deve essere sempre al di sotto di una lunghezza critica, dopodiché diventa pericoloso, ma prima di questo valore non è pericoloso e si può volare senza problemi e tutto questo ha richiesto un cambio di mentalità. Poi altri problemi che ancora si stanno studiando, il rumore, l'infiammabilità, il riciclo, cioè tutte altre problematiche che nascono perché la tecnologia è cambiata sostanzialmente. Il problema di processo è un problema chimico complesso perché sono coinvolti i problemi di trasporto di materia, di energia, di quantità, di moto, ci sono delle reazioni chimiche simultanee in un sistema multifasico e poi la cosa più complessa è che le proprietà dei materiali sono tempo dipendenti. Dobbiamo risolvere un'occazione molto complessa e quindi bisogna sviluppare una serie di modelli che sono stati sviluppati negli anni scorsi per permettere una previsione del comportamento dopo l'effetto, dopo la preparazione del materiale. Questo diciamo è il grafico centrale del processo di trasformazione di un composito. Il problema è che il composito viene costruito per lamine, la matrice è allo stadio B, come si usa dire, cioè ancora termoplastica, c'è dentro un catalizzatore per avviare la reazione, ma è ancora un termoplastico, generalmente sono delle resine tetrafunzionali e queste resine, diciamo, questo sistema viene messo uno sull'altro con le fibre orientate nelle direzioni opportune, come richiesta dal progettista. Il tutto viene messo sotto vuoto e va infornato come una pizza. Va infornata adesso come succede per la pizza? Se il forno funziona bene e se si conoscono le temperature, esce una buona pizza. Se questo non è, la pizza è immangiabile. E lo stesso vale per questi pezzi di composito, perché in effetti noi abbiamo un fenomeno importante, che è quello che man mano che la temperatura sale, il sistema ovviamente riduce la sua viscosità. Il fatto di ridurre la viscosità permette alle bolle che sono inglobate tra i vari strati di uscire, di andare verso l'esterno solo per effetto di gravità. Quindi vanno via e vanno via fino a un certo punto, al punto in cui comincia la reazione, la viscosità immediatamente comincia a salire con una certa velocità e a quel punto per evitare che microbolle siano rimaste nell'interno della massa polimerica, bisogna applicare una pressione e quindi la pressione viene applicata al momento della gelificazione, nel momento stesso in cui il sistema passa da liquido a solido. E quindi a questo punto con l'applicazione di pressione la bolle scompare perché viene compressa e si ha poi alla fine tutta una serie di altri problemini, ma alla fine si ottiene il materiale che può essere utilizzato direttamente. Il processo di gelazione è un processo molto noto, in cui si passa da un bulk polimerico che è un liquido iniziale, a un solido, che è il gel, diciamo che è la resina, in cui internamente rimangono tutta una serie di materiali non reagiti, questo è un altro grande problema che ancora oggi molti costruttori di barche non se ne rendono conto perché per loro il problema è finito quando si è gelificato, ma dimenticano che ci esiste una necessità di completare la reazione, altrimenti c'è una perdita di questo che sembra un plasticizzante del sistema e quindi un infragilimento del sistema stesso. Il lavoro è stato, fu un lavoro molto complesso, questo è un lavoro che ha determinato poi, ha dato la possibilità ad alcune aziende, tra cui l'epoca l'Air Italia, di costruire il primo più grande pezzo in composito che si costruiva insieme con la Boeing, attraverso la collaborazione tra l'Università di Napoli e l'Università di Seattle e Boeing e Alenia, è stata un'interessante collaborazione a quattro mani che ci ha permesso di sviluppare un modello che sembra complesso, ma poi non è moltissimo complesso, ma un modello che richiede delle forti competenze chimiche, perché tutti i submodelli che sono le variabili che siamo riusciti a separare, tutti i submodelli hanno un contenuto teorico elevatissimo, il problema pratico che poi alla fine è l'ottenimento dell'oggetto curato in autoclave, nasce da una serie di submodelli e quindi da un modello master che in qualche modo ha tenuto insieme tutti i submodelli e che viene poi specializzato a secondo delle condizioni, al contorno che si avevano in quelle condizioni. Questo è il sistema, oggi si costruiscono barche, navi, in particolare si costruiscono aeromobili, ma anche automobili, anche la Ferrari, vedrete, è tutta fatta così. Per l'acqua l'altra cosa interessante, e quindi qualcosa che ha sostituito quello che si chiama la corrosione, è l'assorbimento di acqua. L'acqua assorbita in questo sistema non è solo l'acqua che in qualche modo viene legato alla resina, ma è anche un'acqua libera, che è stata trovata per la prima volta da noi nell'85, un'acqua libera, la quale è un'acqua che si concentra nei microvuoti che rimanevano nella massa della resina, dei microvuoti della dimensione di 4-5 molecole d'acqua, ma che da un punto di vista aeronautico rappresentavano il vero pericolo dell'assorbimento d'acqua. Questa microconcentrazione di cluster di acqua rappresentavano delle microbombe locali, per cui il passaggio di temperatura al di sotto dello zero, al di sopra di 100 gradi, determinavano delle sovrappressioni locali che creavano i primi crack prodromici alla creazione di un crack reale, pericoloso per il danno. Quindi questo lavoro chimico, e vi assicuro questo, ha avuto un contenuto veramente di base di chimica, ha determinato una riduzione del pericolo dell'uso di questi materiali nuovi che rappresentano ovviamente il futuro di tutta l'industria di trasporti sicuramente. Questo è quello che si faceva nell'81. Nell'81 vedete che c'era circa il 15% di compositi nell'aereo, quel 6-7, un aereo che tutti noi abbiamo preso per tanto tempo, questo è quello che invece vedete oggi nel 2009. Il 2009 il nuovo 787, che è sempre un aereo della Boeing, ha 50% di composito, che rappresenta tutta la parte che si può pensare in composito, perché l'altra parte è molto vicina al motore, temperature elevate, però ha problemi di incollaggio, ed è un pezzo in cui anche le tecnologie sono cambiate totalmente. Il pezzo più importante, che è la fusoliera, viene costruito come, tanto per semplificare, come si costruisce un tubo, viene costruito in una tecnologia che per un aeronautico era totalmente inconcepibile, ma non 100 anni fa, 20 anni fa, e questo ha determinato tutto un grande cambiamento della cultura del composito. Ovviamente i problemi sono nati, sono infiniti, perché per esempio le vibrazioni, le vibrazioni sono diverse da un sistema omogeneo, da un sistema eterogeneo, da un sistema isotropo, da un sistema anisotropo e quindi tutto il problema del noise, è un problema che è diventato elemento centrale, il problema dell'infiammabilità e altri problemi collegati al cambiamento dell'aereo hanno determinato interessi enormi, oggi il grande interesse nella modifica della matrice con sistemi nanometrici che permettono un ritardo di fiamma, che permettono un assorbimento di energia, che in qualche modo ancora una volta si interviene in questo processo di modificare il materiale, di modificarlo in materiale per progettarlo per quell'applicazione specifica. Questa è la Ferrari F150 e questa Ferrari è tutta fatta in composito, cioè tranne ovviamente le gomme e il motore, il resto è tutto composto, è un composito diciamo di tipo aeronautico, progettato con tipo aeronautico, però devo dire ancora nelle macchine da corso e nelle macchine invece da strada c'è ancora un grande problema che non è stato risolto, il cambiamento del progettista, ancora qui abbiamo lo stesso progettista che lavora per il pezzo in metallo e per il prezzo in composito e che non va bene perché non ha la stessa fiducia, nella progettazione il coefficiente di sicurezza è un coefficiente di ignoranza, il coefficiente di sicurezza cresce sempre di più quando meno si conosce il materiale, quando meno fiducia si ha nel materiale ed è quindi quello di cui abbiamo bisogno è che la chimica e la progettazione lavorino insieme perché questo dà maggiore sicurezza anche al progettista. Quando passiamo ai nanostrutturati ci rendiamo conto che possiamo indurre proprietà diverse ai nostri materiali non necessariamente sintetizzando nuovi materiali ma principalmente accoppiando materiali diverse in varie scale di dimensioni, per esempio possiamo ottenere un supermagnetismo con seconde fasi dell'ordine tra 10 nanometri e 100 nanometri, possiamo ottenere risonanza di plasma, effetti supercatalitici, serviconduttività di metallo, possiamo cominciare a pensare a una tavola periodica degli elementi che abbia una terza dimensione ed è questo il momento di maggiore creatività, come per il composito noi possiamo fare tutto, non dobbiamo più pensare che il materiale che dobbiamo comprare non c'è on the shelf, così per i nano non dobbiamo pensare che non esiste un materiale che può avere quelle performance, in principio potrebbe esistere, dovremmo noi costruirlo in modo tale da poterli far avere, raggiungere quelle performance e questo ancora una volta si muove a vari livelli di scala, dall'atomico fino al macro strutturale. Anche nei materiali più comuni, per esempio i superassorbenti che normalmente leggiamo, anche qui c'è un problema di chimica molto importante, di chimica e in questo caso anche di cinetica di assorbimento, da una cellulosa uno può ottenere un materiale che si riconfia 2000 volte il proprio peso, 200 volte il proprio peso, possiamo avere dei materiali che assorbono da un grammo a due litri, quindi quasi 2000 volte, ma l'importante è che bisogna lavorare non solo nella chimica per ottenere questo, ma anche nella tecnologia, perché lavorando con un'inversione di fase si accelera il processo di assorbimento, si divide in due, un assorbimento immediato e un assorbimento successivo e quindi si riesce a ottenere un sistema poroso che è inizialmente capace di assorbire in tempo molto rapido e successivamente tutta la parte invece più, chiamiamola solida, assorbe lentamente dopo e quindi si ha un effetto molto importante per tantissime applicazioni. Questo lavoro ha avuto il piacere di essere nella copertina di Green Chemistry in cui si vede proprio questo materiale che è capace di vivere bene con l'ambiente perché il sistema è tutta acqua, un grammo di cellulosa contiene due litri d'acqua, ma due litri acqua che possono essere presi in mano, questo è il concetto diverso, si è in qualche modo riusciti a prendere in mano, a dare una forma all'acqua da sola perché con questa piccola percentuale di polimero che lo mette insieme è chiaramente questo un risultato di grande interesse anche applicativo. Ritornando un po' al tessuto naturale, come dicevamo prima, i tessuti biologici hanno delle proprietà uniche, nessun tessuto biologico è omogeneo, nessuno è isotropo e nessuno è o viscoso o elastico, sono tutti eterogeni, anisotropi, viscoelastici. Un ingegnere cerca di semplificare la progettazione e considera o elastico o viscoso, in natura non si è mai pensato che potesse esistere un materiale o elastico o viscoso, ma c'è sempre un qualcosa di intermedio tra i due e così in natura non abbiamo niente di omogeneo e niente di isotropo perché le proprietà sono diverse a secondo delle funzioni. Per l'osso poi si arriva al massimo del livello progettativo complesso perché l'osso esterno è un osso corticale, l'interno è spongioso, la necessità di avere il corticale, cioè il più rigido all'esterno è dovuto a ragioni meccaniche principali, lo spongioso interno ci serve per permettere il passaggio di liquidi e di vari segnali e tutto il sistema cambia continuamente, se noi blocchiamo, lo vedremo dopo, blocchiamo per esempio un osso per un po' di tempo, proprio sulla base della prima diapositiva andiamo verso una degradazione perché non c'è un carico applicato, il corpo reagisce non vedendo carico e quindi degradandosi e andando attraverso una fase osteoporotica perché non ritiene che sia necessario che ci sia un materiale resistente a quel posto. Sulla viscoelasticità ovviamente la base della viscoelasticità è una cosa intermedia tra quella che è la legge di Newton in cui lo sforzo è proporzionale alla velocità di deformazione e quella legge di Hooke in cui lo sforzo è proporzionale alla deformazione. Siamo in una fase intermedia, quindi ci troviamo in un comportamento sfasato tra sforzo e deformazione e questo è un esempio molto simpatico che diciamo di un esempio di un comportamento viscoelastico, questi due ragazzi che corrono su una piscina in cui c'è un liquido viscoelastico, fin quando lui corre si mantiene sul liquido, appena si ferma scende sul liquido perché la velocità con cui ha inciso su questo liquido è quello cruciale per il comportamento del liquido, se si comporta da liquido o si comporta da solito. Un altro esempio è quello che vediamo più in giù, questo è un viscoelastico in cui dimostra che questo liquido ha una sua capacità di resistere a uno sforzo di trazione, quindi c'è una componente di quella che si chiama melt strength, di resistenza del fuso, per cui resiste al suo carico fin quando non raggiunge certi carichi dopo che si spezza. Ed è il caso classico che noi vediamo quando abbiamo la tosse, quando abbiamo dei problemi di bronchiite che non riusciamo a espellere, ma non riusciamo a espellere come a volte si dice perché è viscoso, ma non lo riusciamo a fare perché è elastico, perché c'è una distribuzione di peso molecolari così lunga per cui il sistema crea degli entanglements e quando cerca di uscire c'è uno spring back, un ritorno all'indietro e quando i nostri colleghi come il nostro professor novellino ci dà un medicinale fluidificante, questo fluidificante rompe i pesi molecolari, non riduce la viscosità, ma riduce la componente elastica e quindi permette al liquido di potersi comportare da viscoso ma non più elastico. Un esempio molto importante è proprio quando ci sono problemi di osteoartrosi, noi vediamo come funziona il sistema attualmente quando una persona è sana, quando una persona è sana, è giovane, vediamo che la componente elastica e la componente viscosa sono queste che noi leggiamo qui, G prima è l'elastica, G secondo è la viscosa. Man mano che noi cambiamo frequenza, quindi passiamo da una passeggiata a una corsa, la prima parte della passeggiata, la componente viscosa è superiore alla componente elastica, quindi il sistema viene semplicemente ammortizzato nella passeggiata, quindi non c'è un comportamento elastico vero e proprio. Appena corriamo, quindi superiamo questo punto di inversione, il sistema diventa più elastico che viscoso, per cui abbiamo un ritorno in alto e una spinta dal liquido sinoviale che ci permette di correre, avendo anche un contributo alla corsa da questo liquido sinoviale che è diventato più elastico che viscoso. Con gli anni purtroppo i pesi molecolari si riducono, quindi abbiamo una riduzione di peso molecolare e quindi l'osteoartritico non ha più differenza tra elastico e viscoso, perché ha solamente componente viscosa, non c'è più componente elastica. Un anziano sano ha uno spostamento in avanti di questo punto di inversione, sempre perché si riduce la componente elastica, ma si riduce e va un po' più avanti. Con questi modelli si sono costruiti una serie di protesi che abbiamo sviluppato sia a Napoli sia in altri posti d'Italia e c'è stato un grande lavoro anche per cercare di costruire delle protesi composito, ma tutto questo è cambiato molto quando è cominciato invece l'epoca dell'ingegneria tessutale, perché fin qui noi abbiamo lavorato con materiali stupidi, materiali che in qualche modo noi costruivamo guardando come riferimento alla natura, ma dopo abbiamo pensato perché non interveniamo sulla natura, perché non facciamo un'operazione in cui diciamo alla cellula di crescere in un modo o in un altro modo. Ancora una volta il ruolo del chimico è più cruciale, perché tutto questo è una funzione centrale del substrato e il substrato è generalmente polimerico, molto spesso biodegradabile, molto spesso anisotropo, ma è principalmente il substrato che poi determina come la cellula si va a sviluppare. Questo è il sistema di ingegneria tessutale, dal paziente si prendono alcune cellule, le cellule vengono sviluppate, si semina appunto sul substrato e poi dopo un periodo in cui si crea, diciamo un'altra volta una piccola prova, si ritorna sul paziente. Un esempio molto evidente è questo per esempio di un poliestere dell'acido iaronico come substrato che determina dopo pochi giorni un sviluppo di ville funzionale, questo è per l'intestino e si vede con molta chiarezza utilizzando un normale polimero che non sia stato ingegnerizzato ad hoc. I villi non sono funzionali e non hanno la capacità nemmeno di crescere, mentre questo hanno replicato quello di un intestino naturale. Lo stesso vale per la reggirazione della pelle, abbiamo la capacità oggi di passare, di ricostruire la pelle già da qualche anno, il lavoro iniziale è stato fatto all'MIT dal professor Yannis. Sul tessuto nervoso, che è uno degli ultimi lavori che si stanno portando avanti, anche qui lo scaffold gioca un ruolo centrale, uno scaffold tuporale poroso in collagene e glicosaminoglicani che poi ovviamente si integrano, permette la rigenerazione di un tessuto nervoso per ora fino agli animali, al topo, con risultati molto interessanti. Questo ci permette di concludere che negli ultimi anni, non negli ultimi mille anni, ma negli ultimi 40 anni abbiamo avuto un grande cambiamento del modo di guardare i materiali. Per prima cosa abbiamo cambiato l'approccio, non più la progettazione della struttura, ma la progettazione del materiale e nel momento di progettare il materiale non lo può fare un ingegnere civile abituato a progettare. C'è bisogno di un team di persone che partino insieme da prima, non si incontrino dopo, ma da prima che insiano in gatto con la componente chimica, la componente biologica, la componente ingegneristica di progettare il materiale per quell'uso specifico e nessuno può immaginare che quel materiale sarebbe buono per tutti. Fu un errore dei compositi, tutti pensarono abbiamo fatto i compositi, togliamo i metalli da mezzo e facciamo tutti i compositi, sbagliatissimo, perché non è così e così vale nel biomedico, così vale in altri settori, il problema è quello di rendersi conto delle limitazioni di quello che si sta facendo, ma affrontando il problema in modo interdisciplinare dall'inizio e non lungo a metà della strada. L'altro punto importante è che nel settore bio c'è prima immaginato di creare dei materiali a immagine della natura, oggi ci rendiamo conto che abbiamo tutte le armi, tutte le conoscenze e le chimiche principalmente che ci permettono di spingere le cellule a muoversi in certe direzioni e quindi progettare un substrato e un sistema di segnali da mandare alle cellule in modo tale che si muovano secondo quello che noi riteniamo necessario per ricostruire una determinata parte del nostro corpo. È questa mentalità che è importante, questa necessità di lavorare sempre più insieme, questa grande necessità di mettere a disposizione le proprie competenze non facendo dei generalisti e dei diciamo persone che capiscono di tutto, ma mantenendo la propria identità con una ricerca molto specialistica, ma riuscendo a parlare con altri specialisti. Io credo che questo possa essere la chiave del successo per il futuro. Io credo che noi come chimici dovremmo sostanzialmente trasferire questo messaggio. Non ci può essere avanzamento delle conoscenze senza una grande componente chimica, ma non ci può essere nemmeno una componente chimica da sola che determina un avanzamento delle conoscenze.